Buongiorno cucciolini, questa mattina colazione al bar per Vanessa e Anastasia Mi sembra di sentire che si sono già svegliate, quindi andiamo un attimino a vedere che cosa stanno facendo Bimbe, buongiorno, ma ciao, ma siete sveglie? Cosa state guardando? Vanessa e Anastasia Senti Ani, andiamo a fare colazione al bar, dai, andiamo a prepararci No, dai, andiamo a prepararci, altrimenti arriviamo tardi, eh, va bene Amore, tu sei pronta, ma tua sorella ancora no, e sono già le 7.33, quindi mi sa che al bar non ci andiamo Quindi ascoltami, sei fame, dimmelo che ti faccio da mangiare Eh, amore, ma se si fa tardi, non possiamo, o andiamo a scuola o andiamo al bar a fare colazione Dove va, Anne? Eh, cosa direi? Un pomodoro Mamma mia, è anche ballerino, salta via E poi Il peperone Bravissima L'abbiamo fatto, siamo entrati in macchina, andiamo a fare colazione E' contenta? Sì Dai, tu? Ci sei? Sì, adesso mi sa rossetto Non è vero Non è vero, è il luci da labbra, il burro cacao Non ce n'è il rossetto, Ani Ho ordinato la brioche e la nutella piccolina con l'estate E per te anche con l'acqua Va bene? Contenta? Contenta, amore? Adesso dico a Elena che siamo già qua, va bene? Ho la colazione, amore Sei soddisfatta? Tra poco andiamo a scuola, ok? Beh quanto manca, amore? Quanto ti manca? Fa vedere? Ancora un pezzettino? Dai, poi andiamo a scuola Devi scegliere la bomboniera perché a maggio fai la comunione E avevamo pensato di andare oggi pomeriggio Il problema è che oggi pomeriggio tu devi ripassare tante cose Perché domani hai due verifiche E poi quando oggi torno a fare? E se poi torniamo tardi? Ma apreste una bomboniera Eh, non è così semplice Vabbè, noi andiamo allora Confermo Così cominciamo a vedere in questo negozio se c'è qualcosa di bello Però poi appena torniamo a casa devi ripassare È solo da ripassare Va bene? Ok Allora andiamo a scuola Salutiamo tutti i nostri cucciolini E buona scuola Dove sei? Ma dove vai? Dove vai? Dove vai? Che tanto ti abbiamo già vi vista Sì, lasconditi con la mano Che hai la mano della Barbie Dove andiamo? A Milano A Milano A Roma Brava già Da risposta esatta Dieci Allora stiamo andando più che a prendere A dare un'occhiata alle bomboniere Perché a maggio voi fate la comunione E quindi cominciamo a dare un'occhiata Per vedere se troviamo qualcosa di bello Va bene? Sì Sì Allora bambine mi raccomando comportatevi bene Sì Capito? Sì Brave Il primo gelato del 2023 Com'è? Buono Ma non possiamo andare quel passo Guarda non lo so eh Cinque minuti Cinque minuti perché poi dobbiamo andare a fare questa commissione Dobbiamo andare a casa Va bene dai Finiamo il gelato Andiamo a fare una scivolata E poi andiamo a vedere le bomboniere Ho trovato il negozio Adesso bimbe mi raccomando Che bello Ma c'è dentro un alieno Ok entro io Che bello Suono Guarda che bello il carillon Guardalo anche tu Giadina Ah io guardavo il cavallo quello grande Bellissimo Che bello Vane Non ti piace? E' più da battesimo? Vero? E' un po' piccino per la comunione Sì adesso andiamo a buttare Allora Vanessa ascoltami un attimo Tu hai visto questa bomboniera che ti è piaciuta molto Magari facciamo un altro giretto in un altro posto Ok? Però se a te piace non esitare a dirmelo Che la prendiamo Va bene? Adesso andiamo velocissimamente a prendere delle cosine da mangiare per stasera Che è molto tardi E poi torniamo a casa E il Che cosa il? Il Filo E il laccio ce l'abbiamo a casa tu detto Finalmente a casa Mi credi Anastasia che sono in giro da stamattina Perché sono andata in piscina Ho portato voi Sono andata a fare colazione Sono andata in piscina Sono andata a mangiare fuori Sono venuta a prendervi E siamo tornati a casa adesso E sono quasi le 7 di sera Io sto parlando con te Dove vai? Riccardo Cosa fai? Sarà Bene Senti Io so che tua sorella non mi ascolta Io vado a cambiarmi Preparo la cena E tu allenati un po' con l'analisi grammaticale Va bene? Cosa fai muore? Per il compleanno Domani c'è il compleanno Scusa un secondo Ti devo dire una cosa Scusami Ci siamo dimenticati lo scherzo Scusami Lucio E come l'anima? Tanti auguri a te Tanti auguri a te Tanti auguri ad Amiglia 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 Guarda sei un'artista Adesso le chiedo scusa No devo andare a prepararmi A cambiarmi Dai Ani Dai Ani Ani Dobbiamo pensare allo scherzo Allora ascoltami un attimo Visto che qua dentro c'è il regalo di Amiglia Aspetta aspetta Sì noi abbiamo preso questa bimba Il gattino perché lei No piano che lo rompi Il gattino Non è che guarda il bimbo No il gattino perché lei voleva il gattino Solo che noi cosa faremo? Qua dentro gli metteremo uno scherzo E il gattino Anastasia Va bene ragazzi non vi racconto niente Perché Anastasia è Monella Sì 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 dai Ho detto Adesso Ani Devi pensare a cosa mettere qua dentro Poi questo qua glielo diamo successivamente Va bene? Anastasia Ascoltami che tra poco dobbiamo andare a dormire Mi fai vedere il regalo scherzo per Amiglia per domani? Cosa abbiamo deciso? Devi mettere un Cosa abbiamo messo? Su Su Regalo originale Cosa metteremo? Questo lo togliamo Io lo mettiamo in un altro pacchetto E le mettiamo un super ciuppa Le facciamo credere che c'è un super regalo Anzi sai cosa dobbiamo fare Ani? Io lo mettiamo in un super ciuppa No sì aspetta aspetta Devi prendere tanti fogli di carta Che non ti servono Sali di quaderno scritti E lo riempiamo E il ciuppa ciuppa lo mettiamo in mezzo Così lei non lo trova E quando lo trova rimarrà Malissimo povera Amiglia Ok io domani mattina Ani sai cosa faccio? Compro ancora due Due stupi Perché se mi cade non riempi No ma te lo metto in un sacchetto Ah io lo vuoi dare senza sacchetto proprio così? Io lo lanciamo così gattino Ascoltami io domani mattina Domani mattina compro ancora qualcosina Da mettere qua dentro Che la inganna ancora di più Ok sei contenta? E poi quando esci da scuola te lo faccio vedere Anzi no non posso Perché avrò già imballato tutto Va bene Adesso abbiamo deciso quindi come fare lo scherzo Bene Oh ma sei cresciuta Cos'hai mangiato stasera? Sei diventata alta Ah furbacchiona guardate Quasi alta come me Con i pattini Hai fatto lo zaino? Che dobbiamo andare a scuola domani ancora E' l'ultimo giorno Ah tu stai già preparando tutto Brava brava Dai che poi andiamo a vestirci Per fare la nanna E a lavarci Va bene? Vi diamino Ok? Bimbe Ascoltatemi Ascoltatemi un attimo Sono Ascoltatemi Hello Sono le 10 di sera E io tanto sono Non ci provare Io ho sonnissimo ragazze Anastasia Io vado a mettermi in pigiama Ci siete? Mi ascoltate? E mettetevi in pigiama anche voi due Che arrivo subito Andiamo a dormire Anzi ci guardiamo 5 minuti di long Sì dai Sto già litigando di nuovo Ma io non le sopporto più Bambine Mamma cosa è successo? Mamma 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 Sveglia mamma 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 sveglia mamma Mamma sveglia Sei svegliata Mamma Come stai mamma? Mamma 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 siamo qui? Siamo mamma Mamma Siamo qui Mamma Mamma come stai? Mamma Ma perché mi guardi così? Ciao bambine Come state? Mamma 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 Grazie a tutti.